L'incontro è stato ricco, costruttivo, la serata dedicata all'intelligenza artificiale che è uno strumento e come tale va utilizzato per il bene e per il meglio, un po' come dice CEO for life, per rendere l'Italia migliore. E quindi anche a noi il compito è l'onere di trasformare lo strumento in attività, in realtà, in ricchezza. E fatto in questo modo, stando attenti più al cuore delle cose che non alla semplice realizzazione dell'oggetto, è tutto più ricco ed è più sostenibile. La citazione più interessante di oggi è stata quella di piantare oggi i semi di alberi di cui non vedremo o di cui non godremo l'ombra, però noi oggi stiamo godendo l'ombra di chi ha piantato questi semi prima di noi. Quindi a noi di farlo adesso. Grazie.